amicizia si dice se trovo un amico trovo un tesoro ma dove posso trovare l'amicizia coltivarla farla crescere sicuramente la fattoria dirattica rappresenta un contesto valido per stimolare per far crescere l'amicizia sicuramente mi chiederete in che modo chi conosce le fattorie didattiche ha avuto modo di partecipare ai nostri percorsi si sarà reso conto che a stimolarla ci sono diverse dinamiche il contesto ambientale la natura la natura ci porta a metterci al suo livello ad essere noi stessi senza chiederci nulla in cambio e dunque ci predispone all'incontro ci spinge naturalmente verso l'altro pensiamo a tutto all'approccio con le piante con gli animali la natura riconosce la diversità come valore porta al rispetto di se stessi e degli altri in un contesto di parità la natura ci porta ai ritmi della lentezza e quindi non del tutto e del subito e questo sicuramente facilita la tolleranza l'approccio ludico didattico ci si avvicina a questo mondo così affascinante sconosciuto quindi estraneo ai ragazzi attraverso il gioco chi non vorrebbe giocare si sviluppano tutte quelle che sono le capacità sensoriali motorie creative e questo porta ad esternare da parte dei ragazzi tutte le loro potenzialità naturalmente il collante fondamentale dell'attività diventa l'emozione che porta alla condivisione l'approccio di squadra dove ognuno sorregge l'altro ci si aiuta le nostre energie sono concentrate sul processo quindi in che modo imparo non sul prodotto il risultato la natura non ci giudica diventa quindi spontaneo creare nuovi legami scoprire di avere tanti amici con cui condividere il proprio essere il proprio saper fare condividere le proprie emozioni anche dopo aver salutato il contadino non esistono bacchette magiche ma sicuramente esistono dei luoghi le fattorie didattiche dove concetti astratti come alimentazione ambiente agricoltura attività motoria arte amicizia diventano concreti e questo attraverso l'approccio che noi chiamiamo l'arte del fare imparo facendo coinvolgendo ragione e cuore oggi l'amicizia passa anche attraverso i canali dei social una modalità di comunicazione che appartiene alle nuove generazioni e quindi i nostri bambini per questo si è pensato di mettere la chiocciola finale ad amicizia carissimi insegnanti bambini ragazzi venite nelle nostre fattorie didattiche venite a trovarci vi faremo vivere un'esperienza che le parole difficilmente possono raccontarvi vi aspettiamo